Forse un pochino così, enfaticamente qualcuno di noi la definisce importante, perché vede trattare i temi della energia con un'ottica che non è nuova, certamente, soprattutto in questi periodi, ma che è un'ottica che vorrebbe anche essere l'inizio di un ragionamento, di una riflessione complessiva sul futuro anche del nostro paese. La Green Economy, per essere esplice, che è l'altra faccia di quell'azione che il Ciccolo Ambiente Scienze e Crea Futuro, al suo interno, che è composto, come sapete, da 13 associazioni, sta conducendo da oltre un anno sulla questione del nucleare per cercare di frenarne il rientro in questo paese. Allora noi facciamo questo appuntamento, vuole essere l'altra faccia, quella propositiva, e parlare delle possibilità che, a nostro giudizio, sono enormi, derivanti dall'uso delle energie rinnovabili e che studi che noi abbiamo l'opportunità di presentare, dicono essere forse decisivi per l'occupazione e la ripresa dell'economia del nostro paese. Ecco, io a questo punto mi fermo e lascerei la parola all'amico Marco Pizzoni. Grazie. Grazie.